Ciao Marcello, ciao a tutti, Postman, Deglio e tutti gli ascoltatori Brevemente su Allegri, una constatazione molto importante Allora, l'ho saputo da fonti abbastanza certe che sta facendo un corso di inglese Questo, ditemi voi, a cosa può portare? A mio parere, ditemi se la pensate come me Allegri non sente la stima della società, tanto basta Evidentemente le critiche che hanno fatto dopo Doha, tutti quanti Si aspettavano forse una presa di posizione Lo staff di Allegri, da parte della società, non so Ma questo andare, dire sto bene alla Juve e nello stesso tempo andare alla scuola d'inglese Beh, su, è una provocazione, nello stesso tempo buono sapere l'inglese Perché a fine anno, se le cose rimangono così, se ne va via Speriamo di no, perché, io gli dico sempre Tutti questi che ci mettono alla faccia, non metteteci alla Perché metterla a faccia? Per fare in modo che poi si presenta come se è presentato dopo Bologna Con 3 a 0, partita dominata Con un buon Bologna, tra l'altro, che non si è spostato E abbiamo visto Allegri, scuro in volto Ragazzi, più di così, non so cosa dire Io sono spiaciuto Non diamo spazio a questa gente Non leggiamoli nemmeno Perché Allegri ha due orecchie e gli occhi Questo ci guarda Se non sarebbe così Grazie a Dio ci guarda Allora, se ci guardi, Allegri, tieni duro, porca miseria Tieni duro e rimani qua Ti vogliamo un bene dell'anima Sia in trasmissione, Marcella, tutti Siamo veramente con te No al 100%, al 100% per mille Non si dice Al 100% per mille Ciao a tutti Mi levo perché mi viene nervoso Ho saputo di questa cosa qua stamattina Ci sono rimasto male Alla prossima ragazzi, ciao